Ad Anghiari cresce l'attenzione a causa dell'incremento del numero dei contagi. I dati degli ultimi giorni lo testimoniano. Il sindaco Alessandro Polcri, dopo aver rivolto un appello ai suoi cittadini, affinché abbiano comportamenti corretti, analizza la situazione. Il Comune chiede l'attivazione del progetto Territori Sicuri per l'effettuazione dei test alla popolazione, in attesa di eventuali decisioni che spettano al Presidente della Regione Toscana. Quel primo aspetto è quello di richiedere alla Regione Toscana l'attivazione del progetto Territori Sicuri, e dunque con la possibilità di fare dei tamponi di massa per tracciare eventuali varianti, ma anche la diffusività del coronavirus. E dall'altra parte abbiamo naturalmente fatto una sorta di nota, di verbale, dove abbiamo dato una valutazione complessiva sulla situazione di Anghiari, sul contagio da coronavirus. Sarà il Presidente della Regione Toscana, appreso naturalmente la comunicazione del Comune, dietro il parere tecnico dell'Asia e dell'autorità sanitaria, a valutare se ci sono gli estremi presupposti per adottare delle misure restrittive su delle aree circostanziali.